Ben trovati all'appuntamento con il TGOG News. Il comitato di quartiere di Mercatello riparte da via Leucosia martedì un incontro per edigere un elenco di priorità sulle quali intervenire. In cima alla lista c'è il completamento della strada ma anche la messa in sicurezza della lungomare. Vediamo il servizio. Ripartono da via Leucosia le azioni del comitato di quartiere di Mercatello. Il gruppo di persone residenti che accuore le sorti del quartiere nella zona orientale della città guidato da Stefano De Lucia e alla vicepresidenza con Ornella Parisi sta effettuando una serie di incontri e redigendo un elenco di priorità da sottoporre all'amministrazione comunale. Le priorità sono legate innanzitutto ad un sisanamento della zona verde di via Fornari, quella antistante alla ferrovia che una volta era parco giochi e oggi è rimasta abbandonata. Quindi richiediamo una risistemazione. Richiediamo una rivisitazione sulla lungomare per entrambi i lati sia di via Leucosia che di via lungomare Colombo perché andrebbero risistemati e riqualificati. Rimettere a posto quella buca storica, ridare le panchine, risistemare il verde ma anche una degna pavimentazione alla zona della terrazza di via lungomare Colombo. Rivedere le discese a mare ce n'è una pericolosissima, quella compresa tra il Lido e il Miramare dove la gente rischia ogni giorno di farsi del male pur di scendere su una spiaggia libera. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì prossimo e colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini ad una maggiore partecipazione alle attività riguardanti il comitato di quartiere cosa che ho già solicitato anche attraverso i social ma senza un grande esito in verità. Volevo sensibilizzare tutti sulla questione della metropolitana c'è un accesso che viene sistematicamente chiuso alle 10.30 alle 11 di sera mentre in alternativa si potrebbero chiudere i cancelli di accesso alla metropolitana e quindi evitare che si debba obbligatoriamente passare attraverso un ponticello annesso al passaggio della metropolitana che è fatiscente ed è anche pericoloso. Gestione del Teatro Verdi dopo le accuse rivolte dagli attivisti del Movimento 5 Stelle al governatore e al primo cittadino che hanno poi puntualmente risposto i grillini hanno spostato ancora più in alto l'asticella poste direttamente a De Luca e a Napoli 10 domande attraverso una PEC, una posta certificata. Vediamo. L'azione di denuncia nella gestione del Teatro Verdi avviata dal meetup amici di Beppe Grillo sale di tono. Dopo le accuse degli attivisti e le repliche di governatore e sindaco il Movimento sposta ancora più in alto l'asticella nel tentativo, fin qui vano, di accendere ultimamente il dibattito cittadino. Continuando a lamentare una scarsa trasparenza nei conti del massimo cittadino che da dieci anni viene gestito da un direttore artistico nominato direttamente dalla Giunta Comunale, il meetup continua a puntare l'indice anche nei confronti di un'opposizione a palazzo di città assolutamente inesistente e continua a negare ai cittadini un ruolo fondamentale negli equilibri democratici. Per tale ragione i grillini hanno dunque preso carta e penna e posto direttamente al governatore De Luca e al sindaco di Salerno Napoli dieci domande. Nello specifico gli attivisti chiedono perché il comune di Salerno continui ad affidare a Daniel Oren la direzione artistica della stagione lirico concertistica senza nessuna possibilità di rotazione con altri professionisti di pari livello. E ancora, qual è il rapporto tra il comune e le associazioni che forniscono coro, figuranti e orchestra per ogni opera della stagione lirica e perché mai il comune non pubblica tale elenco e i relativi compensi. E ancora, quali sono i criteri di scelta di questi professionisti chiedono e perché non vengono realizzate dal Teatro Verdi selezioni pubbliche al fine di garantire più meritocrazia ed opportunità agli studenti del Conservatorio Martucci. Per quale motivo il comune di Salerno non chiede la pubblicazione dei bilanci alle associazioni che forniscono coro, figuranti e orchestra al Teatro Verdi anche in considerazione del fatto che queste associazioni ricevono soldi pubblici. E ancora, perché il comune di Salerno consente al direttore artistico di spendere circa 8 mila euro ad opera lirica per un segretario che risulta essere anche dipendente del conservatore. Ed infine, perché il comune non si fa promotore della creazione di un ente di gestione del teatro i cui amministratori potrebbero prestare la loro opera anche gratuitamente senza gravare lente di costi eccessivi al fine di migliorare le performance grazie all'ingresso di numerosi professionisti salernitani oggi totalmente esclusi da qualsiasi contributo, soprattutto dalle professionalità del Conservatorio Martucci. domande in ordine sparso, inviate ai diretti interessati per PEC e che si spera possano trovare presto un'esauriente risposta. Allo processo Crescent è stata ieri la volta della difesa di quello che è consigliato un po' da tutti come l'imputato principale, ovvero il governatore della campagna ed ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca a rappresentare le ragioni del Presidente della Regione, a giudizio per fatti di quando appunto ricopriva la carica di sindaco di Salerno è stato l'avvocato illegale Paolo Carbone. Vediamo. E nel mentre il Crescent comincia a prendere vita con i primi inquilini che dopo anni di attesa sono riusciti a varcare la soglia di casa e ad impossessarsi degli appartamenti acquistati, al Tribunale di Salerno si infiamma il processo che vede coinvolti politici, funzionari, professionisti e costruttori. Ieri, attesissima, è stata la volta della ringa dell'avvocato Paolo Carbone, legale di Vincenzo De Luca, accusato dalla procura di falso ideologico, abuso d'ufficio e reati urbanistici, proprio in relazione alla realizzazione dell'emiciclo disegnato da Bofil. Carbone ha provato a smontare tutte le accuse che pendono sul capo dell'attuale governatore della campagna, sostenendo, tra le altre cose, che sul processo ci sono troppe aspettative e che si gioca tutto sull'essere pro o contro De Luca. Nel corso della ringa l'avvocato Carbone ha portato avanti anche un ragionamento sull'attestazione del falso in atto pubblico. A sostegno della sua difesa ha fatto riferimento ad illustri giuristi. Quella di De Luca, secondo la difesa, è stata una scelta coraggiosa nel segno della trasformazione urbana della città, che ha risanato una zona di degrado e rivitalizzato un'area morta. Questa considerazione ha suscitato una vehemente reazione da parte del consigliere d'opposizione Roberto Celano, che in una nota scritta parla di un goffo tentativo di rendere martire chi ha fortemente voluto lo scempio edilizio sul mare nel comparto di Santa Teresa. Per i legali, in particolare per i difensori De Luca, si tratterebbe di una sorta di processo politico, per la volontà presunta di qualche magistrato di dar voce a chi si contrapponi al sistema di potere, dimenticando, prosegue la nota di Celano, che in tribunale non si discute della valenza o della bellezza o meno dell'opera, ma della legittimità del procedimento adottato, dell'inesistenza dell'interesse pubblico, degli insuperabili vincoli esistenti, degli strani intrecci tra amministrazione comunale e soprendentenza. Vincenzo Russo è stato rieletto alla guida del Lancia e Aies Salerno. I costrattori hanno dunque scelto la strada della continuità, confermando alla guida dell'associazione elettorale il 51enne costruttore salernitano, che taglia il prestigioso traguardo del secondo mandato consecutivo. Russo ha battuto Roberto Scermino al tema di una competizione elettorale che ha visto in campo le 162 imprese iscritte all'associazione per un totale di 2.642 voti. Inoppugnabile e schiacciante il dato emerso dalle urne Vincenzo Russo e la lista da lui capeggiata hanno raccolto 1.633 voti, 1.009 voti per la lista guidata da Roberto Scermino. Bagno di folla ieri a Ponte Cagnano per il neo sindaco Lanzare. Il giovane primo cittadino ha abbracciato la sua comunità promettendo impegno e trasparenza. Presto sarà anche ufficializzata la scuola di governo che lo affiancherà nel mandato. Sì, una nuova fase, una fase storica, una fase che vedrà i cittadini al centro di tutto, una fase dove vede una generazione nuova che ha una grande responsabilità però con entusiasmo e grandi competenze sarà in grado di voltare pagina e di scrivere la storia di questa comunità. C'è stato veramente un bagno di folla questa sera inaspettato per una proclamazione che doveva essere un fatto formale, istituzionale però invece anche questa sera la città ha dimostrato davvero di starci vicino, di accompagnarci in questo nuovo processo e questo ovviamente in termini politici ci dà ulteriore forza di poter con grande determinazione portare avanti il nostro programma elettorale. Da domani saremo al lavoro di questa comunità ascoltando tutti, cercando di risolvere i problemi, di non parlare solamente ma di affrontare tante problematiche con grande determinazione. Cosa l'ha detto il sindaco uscente? Mi ha fatto i complimenti, mi ha augurato un buon lavoro e ci siamo salutati con grande semplicità. Ma guarda, sulle date non mi sento di esprimermi sicuramente però anche da questo punto di vista qui saremo fuori dalle logiche delle trattative, fuori dalle logiche dell'allungamento dei tempi quindi sicuramente è un'aggiunta rapidissima in tempi super rapidi perché questa città ha bisogno di essere governata e amministrata ovviamente tenendo conto di tutte le esigenze di tutte le grandi professionalità e competenze che saranno messe in campo. Ma io in questa fase, in questo momento io sono abituato ad affrontare le questioni diciamo di petto nel senso che oggi io mi sono insediato dalla prossima ora inizierò a studiare e a ragionare con tutte le con la coalizione su quello che sarà la soluzione più opportuna e la risposta più opportuna da dare a questa città. Sicuramente in tempi rapidi, in tempi molto molto veloci e sicuramente l'aggiunta sarà espressione di una grande qualità e di una voglia di lavorare davvero giorno e notte perché questa città ha bisogno di essere amministrata e quindi ci vorrà un impegno notevole. La sfida più importante è quella di recuperare la nostra dignità e il nostro orgoglio di essere cittadini di Ponte Cagnano-Faiano anche portando questa città ai primi posti della provincia di Salerno avendo una grande ambizione che è quella appunto di renderla protagonista e quindi non succube non mai più periferia caratterizzarla con una grande identità a parlare di turismo servizi, logistica supporto all'agricoltura aeroporto, infrastrutture devono essere sicuramente diciamo le parole chiave per affrontare con voglia e con entusiasmo questa stagione politica nuova partendo dal presupposto che ripeto noi abbiamo sicuramente una grande attenzione nel guardare con gli occhi dei cittadini quelle che sono le esigenze e quindi risolvere anche i problemi più concreti la vivibilità quelle che sono le questioni ordinarie ma allo stesso tempo però abbiamo una grande ambizione non ci siamo candidati non siamo stati eletti per tappare soltanto i buchi alle strade o mettere qualche lampadina in più la nostra è una determinazione fortissima che porterà questa città ad essere la migliore di tutta la provincia di Salerno la cronaca ride vandalico al cimitero di Pagani questa notte ignoti dopo essere entrati nella struttura comunale hanno profanato circa 200 tombe portate via vasi e arredi funebri in rame sul caso indagliano i carabinieri un filare di tombe prive di portafiori e di quanto altro arreda il loculo marmorio diceva Totoizzi la scienza circa 200 250 loculi devastati spregiati mancati di rispetto perché questo è il dato più brutto la mancanza di rispetto che si è avuta per i defolti faceva di grignare addirittura i denti gente che era arrabbiata davanti alla tomba del proprio caro e vederla sfregiata non vi dico che cosa hanno detto noi siamo cristiani vogliamo anche capire quelli che sono venuti a rubare per guadagnare uno spicciolo 100 200 300 euro ma che sono scassinato nella notte del bancomat della filiale di Eboli della banca popolare di Bari in via San Giovanni i ladri sono entrati in possesso dei soldi contenuti nelle casse automatiche utilizzando dell'esplotivo per far saltare il bancomat ma il bottino è ancora da quantificare si agirebbe intorno ai 20.000 euro al lavoro in questione i carabinieri della locale compagnia che stanno indagando ovviamente sul furto messo a segno quando l'istituto era chiuso e presumibilmente le casse del servizio di prelievo con carte bancomat erano piene proprio per il weekend un 38enne pregiudicato di Eboli è stato fermato e arrestato dai carabinieri perché è trovato in possesso a bordo della sua auto di una pistola revolver calibro 38 e droga i particolari nel servizio trovato in possesso a bordo della sua auto nel corso di un normale controllo lungo le strade di Eboli di una pistola revolver calibro 38 e di droga più precisamente del crack arrestato dai carabinieri della locale compagnia agli ordini del capitano Luca Geminale un 38enne pregiudicato ebolitano l'operazione è scattata quando l'uomo è stato fermato dai militari dell'arma ai carabinieri non è passato inosservato il tentativo del 38enne di occultare sotto il sedile dell'autovettura la pistola da qui il controllo e la successiva perquisizione veicolare che ha permesso di rivenire anche le munizioni e un modico quantitativo di sostanza stupefacente al termine delle formalità di rito l'uomo è stato tradotto al carcere di Forni a Salerno e in attesa dell'odienza di convalida dinanzi alla GIP del Tribunale di Salerno L'immobile di Ponte Barizzo nel comune di Capaccio Pestum confiscato alla criminalità organizzata che attualmente ospita la sala teatrale d'Argiva sarà riqualificato dall'amministrazione mediante un intervento di restyling particolari del servizio L'immobile di Ponte Barizzo confiscato alla criminalità organizzata e che attualmente ospita la sala teatrale d'Argiva sarà riqualificato dall'amministrazione comunale mediante un intervento di restyling I lavori per un importo complessivo di 340.000 euro sono stati finanziati a valere sulle risorse del Port Campania Fesdr 2014-2020 Il progetto prevede la creazione di un locale unico multifunzionale suddiviso in tre spazi una sala conferenze di circa 75 metri quadri con 66 posti a sedere tavolo conferenze schermo e proiettore un impianto di diffusione sonora Dolby 5.1 ed un impianto microfonico wireless un'area lettura di circa 45 metri quadri dotata di tavoli circolari e sedie poltroncine un tavolino e una libreria ed infine un'area associazioni circa 30 metri quadri dedicati alle varie associazioni socioculturali del territorio dotata di un tavolo conferenze con sedie e una libreria tra gli interventi di restyling è prevista anche la realizzazione di due rampe d'accesso all'immobile per i diversamente abili le pareti interne inoltre saranno rivestite con isolante termoacustico mentre l'illuminazione esterna avverrà tramite l'installazione di fare a led e la vittoria dello stato della legalità evidenzia il sindaco Franco Palumbo questa amministrazione si impegna quotidianamente in stretta sinergia con le forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria affinché il territorio di Capaccio Pessum resti incontaminato dalla criminalità e ora diamo lo sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti al Cinemateatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi in programma il film in uscita nazionale Papillon 3 gli spettacoli alle ore 17 alle 19.30 e alle 22 ingresso intero 7 euro ridotto 5 euro per informazioni 089 22 04 89 www cineteatrosandemetrio.it andiamo andiamo ti divertirai te lo prometto è tempo di notizia il meteo la pubblicità la pubblicità e poi lo sport in collaborazione con a recchi security la tua sicurezza il nostro impegno formazione discrezionalità professionalità la nostra mission è un'esercizio e previsioni per oggi Sono stati assegnati ieri dalla Lega B i diritti per la trasmissione a pagamento delle gare del campionato cadetto per il prossimo triennio campionato che dovrebbe trovare una nuova collocazione, un'antica collocazione è il caso di dire, ritornando così alla domenica. La spuntata Perform che trasmetterà le partite in streaming. Per il triennio 2018-2021 le gare del campionato di Serie B saranno trasmesse dalla piattaforma web Perform che si è giudicata il bando della Lega Cadetta con un'offerta da 22 milioni di euro a stagione, 4 in più di quelli offerti da Sky. Chi vorrà vedere le gare del campionato di Serie B dovrà dunque lasciare il telecomando e munirsi di PC. Le gare saranno trasmesse in streaming a pagamento come è accaduto negli anni scorsi per quelle del campionato di Serie C. La Lega B ha deciso che tutte le partite si giocheranno di domenica ad eccezione di un anticipo fissato di venerdì che sarà trasmesso in chiaro e per la cui aggiudicazione sono in corsa Rai e Mediaset. Sky almeno per ore tagliata fuori ma chissà che l'emittente di Marduk non rilancia e cerchi un accordo con Perform sulla scorsa di quanto avvenuto per la Serie A così da non perdere il campionato cadetto, uno dei pezzi forti e la sua programmazione calcistica del sabato pomeriggio in modo particolare. Assegnati i diritti televisivi la Lega ha varato anche un nuovo regolamento per il famoso paracadute che aspetta a chi retrocede dalla massima serie. Il 20% della somma dovrà essere girato dalle tre retrocessi alle altre 19 società cadette. Campionato di Lega Pro, la Paganese ha presentato in tempo utile la domanda di iscrizione al prossimo torneo di Serie C. Fatto il primo passo ora il club azzurro stellato si concentra sulla scelta del nuovo allenatore che sarà con molta probabilità Luca Fusco. Blitz questa mattina della Paganese a Firenze per ratificare l'iscrizione al prossimo campionato. Il segretario della società accompagnato da un dirigente si è portato di primo mattino presso gli uffici della Lega depositando tutto l'incartamento necessario per l'iscrizione della squadra. Dopo questo passaggio ci sarà un giorno di riposo per tutti e da lunedì tutti al lavoro per iniziare a programmare la prossima stagione. La prima grana da risolvere è quella relativa alla scelta del tecnico con De Sanso sempre più sicuro di mantenere la guida della squadra. Per quanto concerne la formazione Bocchetti sta lavorando da parecchio e sul suo taccuino si sono già notati i nomi da prendere in considerazione per la prossima stagione. Tra i pali oltre a Galli spunta il nome di Stefano Fortunato portiere lo scorso anno in forza al Vicenza. Tra i nomi per la difesa oltre all'ex San Arcangelo Ciro Silignano spunta il nome di Alessandro Riddio calciatore vicino anno nelle scorse settimane a rinforzare il pacchetto arretrato della nocelina. Gaetano Iannini e Nicola Mancino sono i sogni proibiti di Bocchetti. Quasi certo il ritorno di Mimmo Franco lo scorso anno tra le file del Rende. Cortellini dell'Albino Ref potrebbe essere l'outsider per la linea mediana. In attacco Bocchetti spera di riavere Cuppone e Cernicoi nell'ambito delle operazioni che porterà Meroni al Pisa. Dunque un mercato sempre più vivo che mai in attesa delle ufficializzazioni che si spera possono giungere quanto prima. Tutto per questa edizione, grazie per averci preferito. Appuntamento alle prossime. Arrivederci. Buongiorno Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand. Buongiorno 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 Buongiorno